C'è spazio anche per proporre diversificazioni di zucchero, quando parliamo di zucchero parliamo di zucchero bio, possiamo parlare di zucchero convenzionale e poi ci sono chiaramente le offerte che si differenziano per andare incontro al gusto del consumatore rimanendo sempre con il concetto del Made in Italy. Quali sono questi prodotti? Noi abbiamo lanciato tre anni fa la filiera dello zucchero bio e oggi sta crescendo in maniera importante perché gli utilizzatori, il consumatore ma dico anche gli artigiani e l'industria che fino a ieri utilizzava lo zucchero di canna greso ha capito che lo zucchero di canna non ha niente in più, niente di meglio rispetto al nostro zucchero. Se non che viene dall'altra parte del mondo con giorni e giorni di navigazione con degli impatti di emissioni notevoli. Quindi lo zucchero bio, abbiamo il nostrano grezzo di bietola che è un prodotto che sta crescendo in maniera importante, quello si sta proprio posizionando al posto dello zucchero di canna grezzo e mentre lo zucchero di canna sta calando noi stiamo crescendo. Poi abbiamo idea degli altri progetti evidentemente ma soprattutto anche per il ramo artigiani quindi per tutto quello che è pasticceri, gelatai, più ne ha più ne mette abbiamo creato la linea in fundo con sette tipi di prodotti differenziati ed ognuno che va a soddisfare l'esigenza particolare di quel tipo di cliente. Se va in una bibita piuttosto che in un liquore deve essere molto fino, si scioglie veloce, può essere più grosso per altre situazioni. Insomma andiamo a cercare il prodotto che si sposa per il cliente e questo devo dire che sono piccole accortezze che però ci stanno dando un bel ritorno a livello commerciale. Ci sono accordi diciamo così che vengono proprio siglati con altre aziende del Made in Italy, dei biscottifici, a chi fa cioccolato, alle gelaterie. Noi abbiamo tutta una serie di clienti che sposano l'italianità, hanno sposato l'italianità in toto, quelli magari molto grandi che hanno deciso di fare una linea di un prodotto 100% italiano che invece hanno deciso di fare tutta la loro produzione 100% italiano. Diciamo che questi casi sono sempre in crescita, è difficile entrarci perché il primo impatto è il prezzo e noi siamo più cari, però diciamo che la nostra qualità vogliamo che ci venga riconosciuta, quindi siamo più cari. Però quando hanno capito la filosofia, hanno capito che anche loro traggono beneficio dai valori virtuosi della nostra filiera, la sposano e la rivendono. Alcune linee di supermercati hanno sposato il nostro prodotto, Inco Marketing, quindi c'è il loro marchio privato, però ci hanno tenuto a lasciare il nostro marchio sul fianco Italia Zuccheri e questo è un valore veramente importante. Grazie.